Lo Stato, che non è cosa da poco, ha detto a tutti i partiti di fare la propria parte e quindi bisogna rispondere a questo, un momento è molto complicato. Questo non vuol dire che eventualmente si fanno delle alleanze politiche, questo bisogna anche spiegarlo bene. Se si arriverà appunto a fare un governo in questo modo, dove ci sono partiti che sono alternativi e lo rimarranno, è perché c'è questo momento di crisi, ci saranno dei punti specifici nel programma di governo e si andranno avanti per quello che riguarda il governo come maggioranza. Dopodiché, fuori da quei punti, dico, c'è un altro tipo di approccio alle questioni. Si mettono da parte di sapori. Non c'è un vincolo di maggioranza fuori dal programma, per cui per il resto c'è la dialettica parlamentare e chiaramente ognuno si regolerà. Voglio dire, adesso noi stiamo assistendo a delle acrobazie di Salvini che non hanno precedenti, sul tutto. Ma voi non ponete veti? Come? Voi non ponete veti. I veti non si pongono, quello che voglio dire, non si pongono perché il Presidente della Repubblica ci ha chiesto di non farlo, ma noi siamo rimasti dove eravamo, noi siamo rimasti dove eravamo. Eravamo europeisti, eravamo per il rispetto dei diritti umani, eravamo per la gestione dell'immigrazione rispettosa dei diritti delle persone e qui siamo rimasti. Volevo dirti che nel partenza abbiamo, insieme ai colleghi, eravamo per la gestione dell'immigrazione rispettosa dei diritti delle persone